Buongiorno a tutti. In questo video introduciamo, come avevo già accennato nel corso, l'utilizzo di due strumenti di gestione dei progetti che utilizzeremo sempre durante il corso e che in realtà sono tecniche di base, strumenti di base in generale per la programmazione, per chiunque si occupi di programmazione. Parliamo in particolare del sito GitHub e dello strumento Git, di cui impareremo oggi un'infarinatura generale, le cose essenziali che ci servono per poter lavorare all'interno del corso. Quindi in questo video cercherò di rispondere a queste cinque domande, che cosa si intende brevemente come controllo delle versioni nel campo del software, che cos'è Git in termini di tipologia di strumento che si può usare per gestire le versioni, cos'è GitHub, che è uno dei siti di riferimento su cui si possono condividere i progetti, lavorare in modo condiviso, e poi le ultime due domande sono più pratiche, tutti questi concetti relativi al controllo di versioni, come li posso usare dall'interno di Eclipse e in particolare quali sono i flussi di lavoro, quali sono le operazioni che risulteranno utili all'interno del corso, quindi sono quelli che poi utilizzeremo in laboratorio per molti esercizi e in parte anche per molti errori esame. Partiamo dall'inizio, quando io sviluppo un prodotto software, ma in realtà questo si può anche applicare in generale a altri tipi di documenti, altri tipi di progetti, ogni qualvolta devo sviluppare un progetto anche molto ampio, soprattutto se è molto ampio e ancora di più si è condiviso con altre persone, nasce il problema di mantenere aggiornati i file tra le varie persone che ci lavorano, ma anche di non perdere le versioni precedenti, perché tu magari aggiungi un pezzo e ne modifichi un altro, poi potresti avere bisogno di tornare indietro, vedere che punto era, e sincronizzare i vari tipi di contributi che magari diversi autori stanno facendo. Allora questo è lo scopo per cui sono nati questi sistemi di controllo delle versioni o delle revisioni, che di fatto registrano tutti i cambiamenti che vengono fatti a un insieme di file su un certo periodo di tempo. Cioè da quando io ho creato il progetto vuoto, ogni volta che termino di lavorare, alla fine della giornata, alla fine di un'ora, alla fine dell'implementazione di una certa funzionalità, allora lo vado a salvare. E ho un sistema che si ricorda tutti i cambiamenti e quindi mi permette anche volendo di tornare indietro, andare a vedere le modifiche che sono state fatte, da chi sono state fatte e così via. In questo modo non si perde mai nulla. Quindi non dobbiamo avere file versione 1, versione 2, versione 3, 12.000 versioni del stesso file, ultima versione, ultimissima, la modificata lui e io l'ho ritoccata, eccetera, eccetera. No, abbiamo una storia unica, di fatto la storia di tutte le versioni e tutte le modifiche che sono state fatte. Ovviamente questa è un'esigenza che parte da lontano, da molti anni fa esistevano già dei sistemi di gestione di versioni con i detti locali, cioè funzionavano per un singolo utente su una singola macchina, questi ovviamente ormai sono decaduti, si è passati da una versione in cui esisteva o si definiva un server centralizzato che contenesse la storia del progetto e poi gli utenti si collegavano a questo server, ancora oggi in particolare Subversion in alcuni carri viene corruzzato in questo modo, ma nella terza generazione, quella attuale, si lavora invece in modo distribuito, cioè le varie versioni del progetto che sono in qualche modo installate sulle varie computer degli sviluppatori costituiscono un insieme distribuito sul varie computer di un repository che poi si sincronizza senza aver bisogno di un server centrale che le controlli tutte, quindi in questo modo c'è molta più possibilità di costruire dei flussi di lavoro articolati o più liberi essenzialmente, senza la necessità che tutti facciano riferimento nello stesso tempo allo stesso punto centralizzato. Noi siamo in questa fase e quindi impareremo a lavorare in questo modo, in particolare con il kit. Allora, quali sono i concetti di base con cui lavoreremo? Quando si parla di una gestione di un progetto, immaginiamoci un progetto software per esempio, però anche quando scriverete la vostra tesi esattamente si applicano le stesse cose, avrete un documento o più documenti su cui lavorerete nell'arco di molti giorni e di cui vorrete tenere traccia delle varie versioni, il punto in cui siete arrivati e così via. Allora, il primo concetto più importante è quello di repository, cioè è il posto dove tutto il lavoro viene memorizzato, quindi un punto unico che registra tutta la storia del progetto, contiene tutte le versioni di tutti i file, tutte le cartelle che compongono il progetto e di ciascun file contiene tutta la storia, cioè tutte le varie versioni che ha subito. Può sembrare esagerato, però diciamo che la capacità di memorizzazione, gli hard disk costano poco, quindi non c'è motivo per non salvare tutto. Non viene mai cancellato. Il repository è uno strumento incrementale che ogni volta si arricchisce delle versioni nuove del lavoro che avete fatto. Tipicamente questo repository deve essere condiviso tra tutti i membri del team, cioè tutti fanno riferimento a un repository che contiene tutti i file di tutti gli utenti in tutte le versioni, chiaramente per quel progetto specifico. E questa è la storia. Ma poi ciascuno sviluppatore avrà sul proprio computer una copia di lavoro, working copy, che non è altro che un'istantanea, uno snapshot, un fotogramma del repository. Perché io quando lavoro su un file, lavoro su un file, su quella versione di quel file. Poi è utile avere la storia di quel file, da quando è nato, quando è stato modificato, eccetera. Ma quando ci sto lavorando, è una la versione su cui sto lavorando e lo sto modificando per crearne già con la versione successiva. Allora, la copia di lavoro serve a questo. È una copia dell'intero progetto, dell'ultima versione dell'intero progetto o in casi strani anche non dell'ultima, ma di una versione un pochino più vecchia se vogliamo andare magari a riprendere qualche cosa che c'era in passato e poi è stato modificato. Ma per semplicità pensiamo che la copia di lavoro sia l'ultima versione nella quale io posso lavorare, modificare e quindi implementare dei cambi, delle variazioni, delle modifiche alla copia di lavoro. Quindi ho una copia completa, un'istantanea di tutto il progetto in cui posso cambiarlo. Ecco, una copia di lavoro per definizione privata, cioè la mia copia di lavoro su cui io adesso sto lavorando. Non è condivisa. Chiaramente io mi immagino un pochino il repository come se fosse una serie di pancake uno sull'altro e ciascun pancake, ciascun livello è una versione diversa e la copia di lavoro è una copia che mi faccio del pancake che sta in punta, quello più in alto. è l'ultima versione, ne prendo una copia e ci posso lavorare. A un certo punto poi questa copia la potrò riaggiungere al repository in modo da poterla condividere con gli altri. Ma fin tanto che una modifica è nella mia copia di lavoro, gli altri non la possono vedere. Nessuno la può vedere, è solo sul mio computer. Ovviamente la copia di lavoro deve, per poter essere utile, deve tenere traccia, quindi sul mio computer devo tenere traccia di che cosa ho modificato. Ho modificato un file, ho cancellato un file, ho creato un file nuovo, in modo che poi a un certo punto sia in grado il sistema di riconciliare le modifiche che sono state fatte sulla mia copia di lavoro col contenuto del repository. Dire il repository riguarda che quell'utente lavorando sul suo computer a un certo punto ha fatto queste modifiche. E questa operazione di riconciliazione tra le modifiche effettuate in una copia di lavoro e il repository ha un nome in gergo di commit. Commit è il nome del comando che fa l'operazione, ma è anche il nome concettuale dell'operazione stessa. Quindi un'operazione che parte dalle modifiche di una copia di lavoro e le consolida all'interno del repository, cioè aggiunge un pancake in punta con la nuova versione. Quindi a questo punto abbiamo la fila un pochino più alta. Questo repository è cresciuto di un gradino, è cresciuto di un passo. Cosa fa o commit? Va a vedere la working copy sul mio computer, che differenze ha, che differenze ha subito rispetto all'ultima versione presente sul repository e in via repository queste differenze, queste versioni, queste modifiche. Ovviamente, e poi i vari strumenti usano criteri diversi, bisogna fare attenzione perché se lo stesso repository viene modificato da più persone contemporaneamente, bisogna sempre mantenere la coerenza. Cioè se io modifico un file e tu modifici un file diverso, tutto sommato va bene. Ma se io e te modifichiamo entrambi lo stesso file ed entrambi cerchiamo poi a un certo punto di fare commit per inviare le modifiche di questo file al repository, lì c'è il rischio che si crei un conflitto. Allora l'operazione di commit ovviamente dovrà gestire anche questi tipi di conflitti. Soprattutto quando il repository le condivido, ma ci arriviamo tra un attimo. Quando faccio un commit una richiesta è sempre quella di fornire un messaggio, un commento, una motivazione che dice, sì ma cos'è questo commit? Cosa hai cambiato? In una riga, in due righe, dimmi che cosa hai cambiato. In modo che poi quando potrò andare a rivedere la storia del progetto, leggendo i messaggi di commit, posso capire che cosa è stato fatto in un progetto. Quindi un messaggio di commit che dica, modificati i file, non serve a nulla. Un messaggio di commit che dica, ci sto lavorando, non serve a nulla. Un messaggio di commit dovrebbe essere, ho aggiunto questa funzione, ho corretto questo errore, ho cancellato del codice che non serviva più, o cose di questo genere. Quindi che cosa ho fatto, qual è l'effetto del modifiche che ho fatto, non semplicemente il fatto di aver fatto delle modifiche. E questo messaggio è diventa, il fatto costituisce la storia del nostro repository. Quindi la storia del repository è l'elenco di tutte le versioni, ciascuna col commentino, che ti dice chi l'ha fatto, cosa modifica e perché l'ha fatto. C'è anche un'operazione inversa al commit che è l'operazione di aggiornamento. Concettualmente la chiamiamo operazione di update, di aggiornamento, poi vari strumenti la chiamano in modo diverso. Nel caso di git ci sono due comandi diversi, uno si chiama pool e l'altro si chiama fetch, che sono leggermente diversi da questo punto di vista, che è estraggono una versione del progetto dal repository e lo depositano nella coppia di lavoro. Allora, normalmente quello che vogliamo fare è prendere l'ultima versione dal repository e cominciare a lavorarci. Cioè, diciamo che io ho lavorato l'altro ieri su un progetto, ho fatto delle modifiche, ho fatto il mio commit. Poi i miei colleghi hanno fatto altre modifiche, hanno fatto altri sviluppi e io oggi devo rilavorare il suo progetto. Non posso ricominciare dalla versione di tre giorni fa che ho sul mio computer. Perché nel frattempo i miei colleghi ci hanno lavorato. Allora, prima di lavorare voglio essere sicuro di prendermi la coppia più recente, aggiornare la mia coppia di lavoro con la versione più recente del progetto che è presente nel repository. E quindi prima di lavorare, prima di modificare, farò un update. Quindi immaginiamo che è un ciclo molto semplice. Arrivo al mattino, mi aggiorno la coppia di lavoro del repository, ci lavoro e a fine giornata, oppure anche più volte durante la giornata, faccio dei commit per salvare il lavoro e ricondividerlo con i colleghi. Anche qua, devo applicare sulla coppia di lavoro le modifiche che sono state fatte su repository e può darsi, può succedere, che ci siano delle modifiche che in qualche modo si sovrappongono le modifiche che ho fatto io, ogni caso i sfortunati vanno in conflitto con le modifiche che ho fatto io e quindi ci vorrà un'operazione di fusione, di condivisione, di riconciliazione delle varie versioni che può fare solamente il programmatore. Chiaramente il tool non può capire in automatico se ci sono modifiche diverse fatte da persone diverse e che cosa deve succedere. Questo discorso di persone diverse che lavorano sul suo progetto nel nostro corso non si applica tanto quindi sorvola un pochino su queste complessità che sono in realtà le complessità reali, vere, della gestione dei progetti perché di fatto nel nostro corso ciascuno lavorerà sui propri progetti. Fino a qua abbiamo fatto finta che sul computer di una persona ci fosse un repository unico che contenesse la storia di un progetto e una copia di lavoro che via via evolve e poi si va a risincronizzare col repository. Che cosa succede quando vogliamo lavorare in più persone sullo stesso progetto? Allora ci sono due metodi, uno supportato da alcuni tipi di sistemi di controllo e versioni di tipo più centralizzato. Ognuno sul suo computer, ognuno, ciascun dei sviluppatori, sul suo computer ha una copia di lavoro e da qualche parte su un server c'è un'unica copia del repository intero. Quindi vuol dire che quando io voglio fare un update il mio computer entrerà a interrogare il repository e si prenderà l'aggiornamento dell'ultima versione. Ogni volta che faccio una modifica, questa modifica dovrà essere a sua volta salvata con un'operazione di commit sull'unico repository. E quindi gli altri utenti, l'informo e glielo dico, si faranno un update per andare a prendere da repository le modifiche che ho fatto io. Questo è un modello molto semplice, però richiede un unico repository. Se questo sviluppatore qui sta lavorando senza una connessione internet, sta facendo un lavoro più complesso oppure sta facendo degli esperimenti su una sua versione privata del lavoro, non può farlo se non sincronizza, se non è sempre collegato e si sincronizza su questo repository. Col passare a metodi di lavoro sempre più distribuiti, questo modello ha riscontrato le limitazioni e quindi si è andati verso un modello più complesso, che è quello con cui lavoriamo noi oggi, che è un sistema di controllo di versioni distribuito. Cosa succede qua? Che succede? Che i vari sviluppatori ovviamente hanno ciascuno una copia di lavoro, copia di lavoro, copia di lavoro e c'è sempre un repository centrale, assolutamente, ma sul computer di ciascun sviluppatore c'è anche una copia dei repository, una, due, tre. Quindi ciascun sviluppatore ha una copia di lavoro e una copia intera dell'intero repository. Quindi le operazioni di commit e update possono avvenire anche localmente. Io dalla mia copia di lavoro faccio commit, dal repository faccio update e così via. E quindi lavoro e posso andare avanti facendo anche più di un commit, diciamo, localmente sul mio computer. Quando questa serie di commit raggiunge un punto stabile che voglio condividere con i miei colleghi, allora prenderò questa copia e cercherò di condividere sul repository centrale. E i miei colleghi dal repository centrale potranno aggiornare innanzitutto il loro repository locale e poi la copia di lavoro. Quindi abbiamo trasformato un'operazione in un passo dalla copia di lavoro a repository in un'operazione a due passi, dalla copia di lavoro a repository locale e dal repository locale a repository remoto condiviso. Tra l'altro questa architettura è molto fessibile, per cui io potrei anche avere dei casi in cui il repository condiviso non esiste, oppure in cui ne esistono più di uno per configurazioni di tipo particolare. Quindi l'operazione è un'architettura molto libera, molto aperta e purtroppo, proprio perché è molto aperta da molte possibilità, è anche un pochino complessa da utilizzare, soprattutto all'inizio. E quindi, oltre all'update e al commit, abbiamo altre due operazioni fondamentali in un sistema di controllo di versioni distribuito, dove ho repository locali e repository remoti. O almeno un repository remoto. Ho l'operazione che fa sì che dalle modifiche sul repository locale, che ovviamente saranno arrivate da copie di lavoro le quali hanno fatto commit, e quindi qui ci sono dei livelli in più che sono stati aggiunti su questo repository locale, devo aggiornare il repository remoto con le ultime modifiche che sono state fatte al repository locale. Quindi ricordiamo due passaggi, dalla copia di lavoro faccio commit e arrivo al repository locale, quindi questo repository locale in quel momento non è più allineato con gli altri repository locali dei miei colleghi, perché ho fatto delle modifiche. E allora, il passaggio dopo è far sì che le modifiche effettuate sul mio repository locale vengano trasferite anche sul repository remoto. Questa operazione prende il nome di push, cioè vado a spingere modifiche locali anche sul remoto. Ovviamente a patto che queste modifiche non vadano in conflitto con modifiche fatte da altri, ma questa è la gestione dei conflitti di cui parlavamo prima, su cui soprassediamo. L'operazione inversa ovviamente esiste anch'essa, è l'operazione di pull, cioè tira verso di me il contenuto aggiornato di un repository, quindi aggiorna il mio repository locale prendendo l'ultima versione del repository remoto. di un altro repository in generale, ma normalmente del repository remoto, potrebbe anche essere un altro repository di un altro computer, di un altro sviluppatore senza passare dal remoto, ma non interviamoci nei dettagli. Quindi anche qua, quando voglio lavorare, aggiornare il mio lavoro, prenderò dal repository remoto, faccio pull e aggiorno il mio repository locale e poi faccio un update, un checkout principale, in git, e aggiorno la mia copia di lavoro. Quando ho finito di fare le modifiche, faccio commit e quindi aggiorno il mio repository locale e poi dal repository locale farò un push per arrivare al repository remoto. Quindi queste sono le quattro operazioni di base, che implementano tutti i sistemi di controllo di versioni distribuito. Tra questi, il più famoso e uno dei più utilizzati al mondo attualmente, è git. Git è nato nel 2005 per riuscire a gestire un particolare progetto su cui i sistemi di controllo di versioni centralizzati di prima stavano facendo fatica a riuscire a gestire la quantità di sviluppatori che si stava lavorando e soprattutto il fatto che questi sviluppatori fossero distribuiti praticamente su tutto il mondo e allora Linus Torvalds, che è il creatore di Linux, si è inventato git e ha detto che il progetto Linux comincerà ad unare git, me lo sono inventato io sulla base delle esigenze di questo specifico progetto. 2005, si è passato un po' di tempo, la cosa si è evoluta, questo è il sito ufficiale su cui sono rilasciato le nuove versioni di kit e è fortemente orientato a supportare dei team di sviluppatori molto distribuiti, in questa epoca in cui siamo forzati al telelavoro è ancora più importante e la possibilità di permettere ai sviluppatori di lavorare ciascuno su sottoprogetti diversi, su sviluppi diversi, questo è quello che ho chiamato qua sviluppo non lineare, cioè non necessariamente incrementare uno strato dopo l'altro, non possono esserci delle ramificazioni dello sviluppo su più ipotesi parallele che poi a un certo punto dovranno riconciliarsi. Vabbè, ma qui non facciamo tanta storia, semplicemente dal 2005 a oggi git è diventato lo standard di fatto per tutti gli sviluppatori e oltre ai grandi nomi ci sono anche piccoli nomi, diventa di fatto lo strumento di base con cui tutti lavorano per gestire le versioni dei propri progetti. Per installare git c'è questo sito, il sito ufficiale che è una pagina di download che fa il link alle varie piattaforme su cui si può scaricare, tenendo presente che git è uno strumento a linea di comando, quindi bisogna dare i comandi nella finestra dei comandi della comand prompt del proprio sistema operativo nel terminale. Può essere comodo magari cercare, ce ne sono parecchie, delle interfacce grafiche che possono aiutare e evitare di imparare a memoria le sintassi dei comandi git che non è sempre banalissima, oppure nel nostro corso in particolare noi siamo fortunati perché git è già integrato ovviamente dentro Eclipse con un plugin, non ci interessa neanche sapere come si chiama perché in realtà c'è già dentro, quindi noi non daremo mai direttamente i comandi git da linea di comando ma useremo dei menu di Eclipse che a loro volta daranno questi comandi, ovviamente noi dobbiamo capire cosa sta succedendo dietro senza necessariamente conoscere la sintassi dei singoli comandi. Questa slide la sorvogliamo rapidamente, ci sono i link che vi possono servire se voleste invece installare git all'esterno di Eclipse, se lo volete utilizzare in altri casi, ma come vi dicevo nel nostro caso non è necessario. E questo per quanto riguarda il git che sta sulla macchina del singolo sviluppatore e quindi mi permette di gestire la copia di lavoro e il repository locale. E il repository remoto invece dove lo metto? Il repository remoto lo dovrò mettere su qualche sito remoto che mi fa la gentilezza di ospitare il mio repository. Ce ne sono diversi di siti di questo genere, qui ce ne sono quelli più famosi e noi utilizzeremo in particolare GitHub, che è un servizio che nasce ovviamente per ospitare i repository remoti, quindi siamo in 5 utenti, lavoriamo su un progetto dove ciascuno ha sul proprio computer il repository locale, la copia di lavoro e il git installato, ma poi per condividere il lavoro creiamo un account, un repository su GitHub e ci salviamo il progetto e lo usiamo come repository remoto condiviso per tutti i nostri progetti. Questa è un'azienda, GitHub, che ha creato questo servizio, lo offre gratuitamente per i progetti open source o per i progetti pubblici, quindi ciò che salvate su GitHub diventa automaticamente visibile a tutti, coloro che si collegano al sito e ciò che pagate, se volete pagare, sono i progetti privati. È un modello un pochino strano, se tu pubblichi qualcosa e lo lasci vedere a tutti non paghi nulla, se tu vuoi pubblicare qualcosa per te stesso solamente e non renderlo pubblico devi pagare e questo è il modo essenzialmente con cui loro intercettano le aziende, chi sviluppa dei prodotti commercialmente ovviamente non vuole renderli pubblici, non vuole renderli scaricabili dai loro concorrenti, allora pagherà per avere l'accesso privato. Quindi questo modello funziona, tra l'altro questa azienda GitHub è stata acquisita l'anno scorso da Microsoft, quindi diciamo così, lunga vita GitHub perché sicuramente ha a godi di un supporto industriale ed economico di primo ordine. In tutto questo GitHub ha una forte attenzione per il mondo dell'education, per gli studenti e quindi se voi create un account e andate su questo sito potrete trasformare il vostro account, registrarlo come un account studente e quindi avete i repositori privati gratuiti anziché a pagamento o più una serie di altri tool che potete scaricare. Non è l'unico, io non voglio fare pubblicità a GitHub, semplicemente quello che ho utilizzato, esiste Bitbucket, esiste GitLab eccetera eccetera, facciamo una scelta. Ok, adesso questi sono gli strumenti, vediamo un attimo come utilizzarli, come usarli, quindi in quanto è i comandi di base su cui non entriamo in dettaglio, ma la domanda che ci facciamo adesso è, va bene, ho capito i concetti base, ma in pratica, in pratica come faccio? Allora, io voglio vedere insieme a voi due flussi di lavoro, due workflow. Un primo workflow quando voi dovete lavorare su un vostro progetto nuovo, quindi create un progetto e lo volete condividere. Il secondo workflow invece, che vedremo tra un attimo, è quando devo lavorare su un progetto che qualcun altro ha creato e io ci devo contribuire. Allora partiamo dal primo, creare un nuovo progetto. È, diciamo, definito in quattro passaggi. Adesso sulle slide che trovate scaricabili ci sono le varie videate, ma anziché vedere insieme le videate e commentarle, facciamolo in tempo reale. Quindi apriamo Eclipse, prendiamo Eclipse e andiamo un pochino e vediamo di applicare. Quindi siamo in un contesto in cui noi vogliamo creare un nuovo progetto e condividerlo su GitHub per poterci lavorare. Una nota, se anche ci lavoro solo io, se anche ci lavorassi da solo, vale comunque la pena, vale comunque la pena di salvarlo su GitHub perché mi mantiene la storia, mi permette volendo di lavorare da più computer diversi, sono sicuro di non perdere nulla. Quindi la controlla di versioni non è solamente utile quando devo lavorare con altre persone, ma è anche fondamentale quando devo lavorare da solo. Una volta che cominciate ad abituarvi a lavorare in questo modo, state tranquilli che non vorrete tornare indietro a dire, ma quell'ultima versione del file ce l'ho nella chiavetta che l'ho lasciata in borsa, ma ieri pomeriggio sono andato in palestra, quindi magari l'ho dimenticata là. Oppure gente che dice, ho perso tutto il lavoro e la tesi perché mi hanno rubato la chiavetta mentre ero sull'autobus, ecco queste cose qua nel 2020 non devono capitare. Quindi ricordatevi che se venite a dirmi o se parlate di un informatico e dite ho perso tutto, lui vi riderà in faccia, no? Perché non avete usato gli strumenti che ci sono per poter gestire non solo le ultime versioni, non solo le copie di backup, ma anche la storia di tutto il lavoro. Ok, fine del tippone e torniamo al nostro eclipse. Allora, crea un nuovo progetto. Facciamolo così come faremo i progetti nel nostro corso, visto che noi lavoreremo con la libreria JavaFX e quindi creeremo dei progetti grafici e su Java11 c'è una certa complessità nella gestione dei progetti, noi abbiamo semplificato il lavoro di creazione dei progetti. Allora, la procedura che seguiremo sempre per creare i progetti è questa. Adesso zoomate poi il video su questa parte per poter vedere meglio. Eclipse non è molto friendly con la dimensione dei caratteri. Allora, nuovo progetto, file new project e new project ci permette di trovare, Eclipse ci chiede di scegliere quale tipo di progetto usare. Allora, voi siete abituati probabilmente a creare un nuovo progetto di tipo Java project che gli crea un progetto Java semplice e nudo, ma per poter usare le librerie che ci servono. Noi usiamo un tool che si chiama Maven che permette di di fatto scaricare automaticamente le librerie necessarie per un progetto. E noi abbiamo definito uno scherzo di progetto che può andare bene per questo corso. Quindi, quando creiamo un progetto in questo corso, il tipo di progetto di partenza sul new project sarà sempre Maven project. Quindi, file new project, Maven, Maven project. Maven project mi chiede dove voglio salvare il progetto. Vabbè, l'avrò definito all'interno di Workspace che ho definito quando ho aperto Eclipse, quindi ci sarà già, la prima videata non ci interessa. La seconda videata ci chiede se vogliamo selezionare un archetipo, cioè di fatto uno scheletro di progetto da cui partire. Quindi Eclipse non creerà un progetto vuoto, ma creerà un progetto prendendo istruzioni da questi archetipi che sono stati salvati proprio all'interno di Maven. Maven è un insieme distribuito di cataloghi, vedete che ce n'è più di uno, un insieme distribuito di cataloghi disponibili online su cui gli sviluppatori possono pubblicare queste librerie, progetti, archetipi, eccetera, eccetera. Non diventiamo pazzi su Maven. Qui c'è una serie infinita di progetti possibili. Noi scegliamo quello che ci serve, inseriamo TDP come criterio di filtro, TDP che sta per tecniche di programmazione. E qui troviamo un archetipo che ha fatto Alberto Monge, appositamente per questo corso, che si chiama TDP Gerrfx Archetype. Il sul perché di Gerrfx lo vediamo nella prossima lezione quando vedremo il funzionamento di Gerrfx stesso, però ci convincentiamoci solamente sul progetto. Quindi vogliamo creare un nuovo progetto che usa questo archetipo fatto opposto per tecniche di programmazione. Vado avanti. La videota successiva mi dice com'è il progetto che voglio creare. Quindi io devo specificare qua il package di partenza e in questo corso io userò sempre questo package di partenza it.polito.ttp, che è di fatto tecniche di programmazione.politecnica.it e come group ID. Come Artifact ID invece userò il nome del progetto, il nome vero e proprio del progetto. Quindi lo chiamo Artifact ID perché è la nominatura di Maring, ma per noi è il nome del progetto. Ovviamente il package sarà y.polito.ttp è uguale a group ID più il nome del progetto. Allora questo nome del progetto lo possiamo chiamare prova1, tanto per semplicità, tanto poi lo cancelleremo. E quindi definisco un progetto che si chiama prova1 e quindi verrà creato un package it.polito.ttp.prova1. Se clicco su finish parte la creazione del progetto. La creazione del progetto può richiedere un po' di tempo, tenete presente che la prima volta che lo fate richiederà parecchio tempo perché Cript dovrà scaricare tutte le librerie che sono indicate all'interno del progetto e che quindi Maven dovrà scaricare. Se guardate il progetto, avete preso a sinistra, infatti vedete un gruppo di librerie che si chiama Maven Dependencies, cioè le dipendenze di Maven, all'interno del quale ci sono una serie di librerie che adesso non le conosciamo ancora tutte ma le useremo via via durante il corso e che sono state scaricate e che ci potranno servire durante il corso. Quindi tutti i progetti avranno già tutte le librerie che ci servono essenzialmente. La prima volta ovviamente Cript le deve scaricare e quindi sarà un po' più tempo. Poi all'interno qui c'è un package it.polito.ttp.prova1 che è quello che avevamo chiesto e all'interno questo ci consegnava del nostro programma che sarà un codice di partenza da cui poi inizieremo a lavorare. Allora qui ho creato un progetto nuovo, fin qui non ho fatto nulla questa è un po' lunga perché è la prima volta che lo facciamo, ma poi voglio condividerlo. Quindi sono a questo punto qua, ho creato un progetto in Eclipse usando un archetipo adesso però questo è un progetto che non è ancora sotto version control, è un progetto semplice ma non è agganciato a un repository. Allora la prima cosa che devo fare è creare il repository locale. In Eclipse tutte le operazioni di version control sono sotto il menu team quindi sono andato sul progetto, tasto destro, mi dà il menu contestuale, team tutte le operazioni di version control le troviamo dentro questo menu team Vedete che il menu team per ora è praticamente vuoto, ha solo due voci perché il progetto appunto non è sotto version control quindi la prima cosa che devo fare è condividere il progetto shared project è la terminologia che usa Eclipse per dire crea un repository quindi un progetto appena creato, nuovo, non è agganciato a un repository col comando shared project lo aggancio, crea un repository e lui mi dice bene, dove lo vuoi creare questo repository? configure git repository io di solito lo faccio creare nella stessa cartella in cui si trova il progetto quindi c'è questa prima casella usa, crea repository nella cartella parte del progetto seleziono il progetto e seleziono il bottone in basso crea repository, così me lo crea nello stesso workspace dove c'è il progetto stesso quindi lui alla fine creerà un progetto di tipo git all'interno di questa cartella che è la cartella del progetto faccio finish ed è fatto è cambiato leggermente l'aspetto estetico del progetto perché a fianco di ogni icona sono comparsi due simboli in alto dove c'è il progetto e il compasso in basso a destra è un simbolo di un bidone giallo il bidone giallo è l'icona del repository e poi a fianco di tutti i file è compasso un punto interrogativo il punto interrogativo ci dice guarda che questo file è nel progetto ma non è ancora nel repository è ovvio perché noi abbiamo creato il repository ma questo repository è vuoto quindi la prima cosa che dovremmo fare sarà quella di abbiamo un repository vuoto e un working space che contiene dei file allora dovremmo ad un certo punto aggiungere questi file questo working space all'interno del repository se andiamo a curiosare nel menu team vediamo che adesso invece è molto ricco e quindi il primo comando che troviamo qua è proprio commit cioè salva nel repository locale il contenuto del working space attuale prima di farlo lo facciamo tra un attimo questo commit torniamo su GitHub noi avevamo adesso abbiamo creato il repository locale in Eclipse ma questo repository locale lo vorremmo anche condividere allineare con un repository remoto anche se lo usassimo solo noi su GitHub creiamo un repository parallelo gemello a quello locale che sarà sincronizzato quindi prima di fare il commit quindi a sincronizzare il repository locale predisponiamo un repository remoto con cui fare il collegamento quindi crea un nuovo progetto su GitHub il terzo passaggio crea un nuovo progetto su GitHub significa che apro a questo punto invece il sito di GitHub che avrete creato un account su GitHub con il vostro nome io questo e il mio dove ho tutta una serie di repository che ho già creato per vari motivi quindi e questa è la vostra pagina GitHub personale all'interno di questa pagina creiamo un nuovo repository quindi all'interno del vostro utente faccio repository nuovo e mi permette di creare un nuovo repository allora chiamiamolo con lo stesso nome del progetto Eclipse quindi lo chiamo Prova1 chiamatelo come volete ovviamente ma conviene usare lo stesso nome del progetto così non ci confondiamo la descrizione è semplicemente repository di prova per registrarvi per registrare il funzionamento di GitHub e poi clicco su crea lui vi dice a me c'è anche un file readme dentro il progetto non fatelo non mettete nulla dentro questo repository perché il contenuto del repository glielo manderà poi Eclipse non facciamo nulla pubblico o privato come volete però lasciamolo pubblico crea repository ecco questa è la pagina che trovate quando il repository è creato ma vuoto dice guarda si c'è ma è vuoto e quindi per riempirlo puoi fare varie cose puoi creare col comando git oppure fai push eccetera eccetera oppure importarlo da un altro progetto nessuno di queste ipotesi ci interessa perché noi lo riempiremo arrivando dai Eclipse l'altra cosa importante che c'è da notare è che ogni repository ha una urla un indirizzo che voi trovate qua in alto e questo indirizzo è l'indirizzo del nostro repository all'interno di GitHub vedete che è github.com slash che è il mio utente slash prova1 che è il nome del progetto .git questo è fondamentale perché è quello che ci permette di creare il collegamento tra il progetto locale e il repository locale e il repository locale adesso abbiamo creato il progetto è vuoto ma possiamo tornare su Eclipse e salvare questo progetto all'interno e del repository locale e del repository remoto come si fa? team commit il comando il comando di commit mi crea o mi popola una finestra qua in basso git staging staging vuol dire i passi intermedi che ci permettono di salvare il file cosa si dice? tre finestrelle la prima modifiche non ancora pianificate sono le modifiche che sono state ai file del progetto ma per i quali non è ancora stato predisposto il commit in questo caso c'è tutto il progetto noi possiamo prendere uno a uno questi file e portarli invece nella finestra o cliccandoci sopra o spostandoli nella finestra stage changes che sono le modifiche al working space che in realtà vogliamo salvare facendo un commit vogliamo salvare perché magari alcune volte ci sono modifiche che facciamo abbiamo fatto un file temporaneo stiamo ancora lavorando su una cosa allora vogliamo fare commit di un file ma non di un altro lo potremmo scegliere ma nella maggior parte dei casi quello che ci interessa è salvare tutto e quindi c'è questo tastino verde più più con questi due più che permette di copiare in blocco tutte le modifiche modifica vuol dire fai nuovo fai modificato fai cancellato tutte le modifiche dal working space al allo staging alla staging area all'area di staging che ci prepara per il commit non posso ancora fare commit perchè devo ancora scrivere un commento quindi questa finestra a destra serve per scrivere il commento al commit e quindi lo chiamerò ad esempio primo commit del progetto vuoto non c'è ancora nulla a questo punto c'è il bottone in basso a sinistra ci sono due bottoni uno si chiama commit e l'altro si chiama commit and push commit fa solamente commit sul repository locale commit and push fa un commit sul repository locale e subito dopo un push dal repository locale a quello remoto nella maggior parte dei casi ci serve questo se invece stiamo lavorando in tren e non siamo collegati a internet possiamo fare commit in locale poi quando faremo push tutti i commit verranno aggiornati ma se vogliamo fare push subito e quindi condividere sul repository remoto possiamo fare tutto in unico operazione tra l'altro avete notato che sulla sinistra le icone con punto interrogativo legate ai singoli file si sono trasformate in più che dicono guarda che questo file lo stiamo per raggiungere al repository non c'è ancora ma stiamo per raggiungere ok clicco su commit and push il commit è già avvenuto quindi nel momento in cui ho cliccato il commit è una operazione praticamente istantanea la lavorazione sul computer locale e come vedete le icone sono nuovamente cambiate a fianco di ogni file questa volta compare il bidoncino giallo per dire questo file è sincronizzato con repository finalmente dentro repository locale ho chiesto però anche di fare push il repository locale fa il push sul cloud sul remoto lui la prima volta che faccio push per un progetto per lui non sa ancora qual è il repository remoto verso cui fare push cioè noi l'abbiamo creato con git ma lui come fa a sapere che l'abbiamo creato e come si chiama? ecco allora per questo la prima volta ci chiede qual è il repository git di destinazione destinazione del push le volte successive questa finestra non compare più ovviamente perché all'interno del progetto viene salvato qual è il repository remoto e quindi si fa il push in automatico su quel repository allora la questa finestra è già stata parzialmente precompilata perché io sono stato previdente e quando ho selezionato il nome del repository ho fatto copia ctrl c di questo indirizzo e quindi Eclipse si è accorto che nella clipboard ha già precompilato questi campi ma se no basta andare qui e fare incolla del nome del repository e lui precompila i campi che gli servono la prima volta che lo usate dovrete qua sotto ovviamente anche inserire le credenziali di GitHub in modo che Eclipse possa modificare i vostri progetti di GitHub quando avete creato l'account GitHub avete definito uno user e una password Eclipse ha bisogno di conoscerli per poter salvare i progetti da conto vostro tutto questo solamente la prima volta poi ci sono un paio di passaggi essenzialmente più tecnici che dicono quale branch andare a salvare il progetto e poi soprattutto questa carrellina molto importante dice guarda che da adesso in avanti il push e il pull lo farò verso questo progetto qua quindi non chiedere più l'ultima finestra dice guarda che sto per fare questo questo nome master vuol dire semplicemente il branch principale noi lavoriamo praticamente solo in questo master branch e quindi per il momento non ci preoccupiamo di cosa sta succedendo clicchiamo su finish Eclipse pensa un attimo push to e il topo mi dice l'ho fatto l'operazione di push ha avuto successo chiudi se io torno è finito quindi questo progetto è stato salvato su git se io vado su git e aggiorno la pagina su git tab scusate aggiorno la pagina questa volta anziché quella pagina che mi dice guarda che il progetto è vuoto avrò una copia del mio progetto e guardate qua primo commit del progetto è esattamente il commento che ci ho scritto questa è la storia del mio progetto vedete che ha un commit solo qua c'è scritto un commit che posso vedere la storia è un commit solo se invece vado a vedere il codice mi fa vedere qual è il contenuto dell'ultima versione e così via del progetto se voglio andare avanti a questo punto io potrei modificare il progetto magari qua aggiungo un commento tanto per fare una prova un commento di prova e salvo il file e salvo il file quindi ci lavoro cosa succede? che quando io modifico qualche cosa a sinistra compare una freccia vedete che mi insegno di maggiore che dice guarda che qui c'è un aggiornamento e nella finestra di commit in questo caso la finestra mi è rimasta aperta mi fa vedere che questo cambio è ancora è stato cambiato qualcosa nel working space quindi io in qualunque momento posso fare lo staging di questa modifica quindi l'asterisco dice modifica di tipo cambiamento di file e il commit message aggiunto un commento commento inutile e faccio nuovamente commit and push e lui farà la stessa cosa in questo caso lo fa molto rapidamente mi dà la conferma che ha aggiunto questo commit se io torno su github e faccio aggiorna quindi faccio un f5 lui mi dirà che ci sono stati adesso ci sono due commit nel progetto e all'interno della cartella main in particolare c'è aggiunto un commento inutile qua dentro su questo file in particolare entrypoint.java e quindi qua vedete che c'è il commento di prova appunto molto inutile che ho che ho definito e posso anche volendo vedere ovviamente dicevamo le modifiche e quindi Kitad ci fa anche vedere in verde ciò che ho aggiunto in rosso ciò che ho cancellato e così via quindi posso anche capire cosa è stato fatto in quello specifico commento quindi lavorando su un progetto nuovo essenzialmente le operazioni che da fare sono queste la all'interno su github posso vedere tutta la storia dei commit ma la posso anche vedere localmente perché se io prendo il progetto scelgo team e scelgo show in history mi fa vedere la storia del progetto quindi l'history mi fa vedere la storia del progetto nel repository locale quindi primo commit aggiunto commenti inutili ci sono tutti i vari commit il nome master indica i file nel branch principale del mio progetto locale origin origin master invece indica che il repository remoto è aggiornato a quel punto origin è il nome che git da al repository remoto al primo repository remoto in questo caso questo working space è aggiornato sia sull'ultima versione del master sia sull'ultima versione del master remoto e questo è il primo flusso di lavoro però tante volte invece dovremmo lavorare su un progetto che ha già costruito qualcun altro questo succederà spesso ad esempio nei laboratori cioè arriviamo in laboratorio noi abbiamo un progetto che i docenti già ci mettono a disposizione noi i docenti prepariamo un progetto e gli diciamo ok parti da questo progetto e lavora vai avanti questo progetto ovviamente come ve lo diamo? ve lo pubblichiamo su repository su github quindi voi dovete prendere un progetto mio e farve una copia vostra per poterci lavorare per poter far sì che poi voi possiate lavorare l'internet e clips in quel progetto ok come funziona? andiamo a vedere su github io abbiamo creato per lavorare nel progetto una github che chiamo organization che si chiama tdp 2020 tecniche di programmazione anno 2020 questo questo sito cioè questa organization quindi kitab.com tdp 2020 vedete qual indirizzo è l'organizzazione nella quale ci saranno tutti i progetti che ci servono su voi potete leggere quindi vedere i contenuti di questa di questa organization di tutti i repository presenti non li potete però modificare li possiamo modificare solamente noi qua a un certo punto per il primo laboratorio troverete un progetto che si chiama laboratorio 1 e vorrete lavorarci non potete lavorarci perché ovviamente non avete i permessi di modificarlo allora che operazione viene fatta? viene fatta un'operazione che si chiama FORG adesso lo facciamo insieme io ho creato un progetto di esempio che ho chiamato esempio git per poterci esercitare quindi potete provarlo poi anche voi questo progetto è dentro tecniche programmazione 2020 ok? è l'organizzazione condivisa c'è questo esempio che contiene un progetto vuoto difatti è un progetto nuovo che ho appena creato che è di proprietà di tdp 2020 voi non lo potete modificare per poter modificare dovete eseguire un'operazione di FORG vedete qua in alto a destra c'è un bottoncino FORG FORG che cosa fa? fa una copia di un progetto di cui avete il diritto di lettura quindi questo progetto qua esempio git sta dentro tdp 2020 voi lo potete vedere ma non modificare però visto che lo potete vedere ne potete fare una copia un FORG all'interno del vostro repository personale nel momento in cui è nel vostro repository personale potete fare se che volete e quindi puoi anche modificarlo allora qui c'è un repository remoto di proprietà di tdp 2020 ok facciamolo diventare un repository remoto di proprietà mia di ciascuno di voi come? con questa operazione FORG clicco semplicemente sul bottone FORG e vi dice dove vuoi FORG esempio git cioè dove vuoi fare una copia beh io qui ho tante organizzazioni voi ne avete probabilmente una sola che è il vostro nome quindi cliccate sul vostro nome e aspettate un attimo lui ciò che sta facendo sta facendo la copia il FORG di esempio git da tdp 2020 e l'ha messa dentro il mio corno esempio git oppure voi stessi dovessi essere esempio git quindi sarà nel vostro repository personale una copia identica del progetto che avete scaricato avete visto su tdp 2020 adesso questo è vostro quindi vedete che anche l'indirizzo è fulvio corno versi esempio git e non è più tdp 2020 versi esempio git quindi ci potete lavorare questo è il vostro repositorio remoto quindi da un repositorio remoto su cui non potevamo agire potevamo solamente vederlo ho creato una copia un altro repositorio remoto su cui adesso voglio agire vabbè però adesso è là è lassù nel remoto per poterci lavorare dovevo scaricarlo in locale quindi creare un repositorio locale corrispondente e poi un working space all'interno del quale vedere il progetto ok vediamo questi passi quindi ho creato un repository remoto a cui io avessi accesso facendo un fork di un repository che c'era già ma a cui non avevo accesso questo è il primo passo il secondo passo a questo punto una volta che ho un repository remoto con i diritti di accesso miei e che contiene il progetto che mi interessa lo clono in Eclipse un clone è il nome che si dà al primo pull nella prima volta che faccio pull cioè ottengo un repository locale da uno remoto prendo il nome di clone qui c'è una terminologia un po' strana ma ci si arricchia rapidamente quindi torniamo in Eclipse dimentichiamo un attimo questo progetto che avevamo fatto prima quindi lo chiudo solo per non avere distrazioni e crea un nuovo progetto allora per creare un nuovo progetto clonandolo da git non uso il menu nuovo ma uso il menu import quindi uso il comando import file import oppure da qua tasto destro import import di un progetto import perchè il progetto esiste già non lo devo creare lo devo semplicemente importare dentro Eclipse dentro import c'è la bocce git dentro git c'è il comando import un progetto da git ovviamente per importare un progetto da git devo conoscere l'indirizzo a cui questo progetto vive su git ma questo indirizzo ce l'ho qui torno su github e mi fa vedere clone or download se clicco qua sopra mi fa vedere l'indirizzo a cui vive il progetto attenzione è il mio non è quello di ttp 2020 se clonate ttp 2020 vi fa fare il clone ma poi dopo non potete più fare push e quindi di fatto le modifiche che fate non riuscite più a salvarle invece se lo fate sul progetto risultato del fork è un progetto vostro lo potete modificare quindi copia ctrl c questa questa voce torno su eclipse clicco progetto da git vado avanti ti do l'indirizzo clone or arrive vuol dire indirizzo da cui clonare vado avanti e lui già mi pre compila perchè abbiamo fatto copia l'indirizzo del repository vedete che il mio sulla mia area si chiama sempre esempio git qui sono sempre le solite cadenziali di accesso al github e posso andare avanti lui mi chiede quale branch voglio clonare tutti o in questo caso questo che è l'unico dove lo voglio salvare adesso lui lo salve in una cartella io per comodità il workspace di clips lo metto su un altro disco e da un'altra parte quindi posso scegliere qual è il workspace all'interno del quale salvare il progetto e poi a questo punto clips scarica il progetto e lo importa quindi c'è un'altra parte di passaggi finish fino a quando alla fine il progetto è stato scaricato ci mette un attimo deve scaricarlo riconoscerlo scaricarlo in librerie anche le librerie maven eccetera eccetera a questo punto io sto lavorando dentro questo progetto che si chiama esempio git vabbè è una copia di quello di prima quindi è uguale ma è un progetto diverso a questo punto il progetto è mio ho fatto clone posso lavorare sul progetto e a questo punto posso fare commit and push esattamente come facevo prima in un progetto nuovo quindi se io qua adesso aggiungo un altro commento altro commento ancora più inutile posso salvare e farò la stessa cosa ho una modifica faccio lo staging della modifica scrivo il commit commit di prova e schiaccio commit and push in questo caso non mi chiederà più nulla perché visto che il progetto è stato creato in operazione di clone lui sa benissimo qual è il progetto di repository remoto da cui proviene quindi facendo commit and push automaticamente il file mi dice che ha fatto il push su questo repository e se non ci credo vado a verificare aggiornando questa pagina e mi fa vedere che ci sono effettivamente due commit e quello commit di prova è andato a finire dentro questo file main in cui ho aggiunto il commento se vogliamo controllare su tdp 2020 invece non c'è questo commit c'è un commit solo che era quello di partenza quindi effettivamente ho fatto commit solamente nella mia copia del progetto cioè da quando ho fatto il fork in avanti il progetto è mio a tutti gli effetti quindi quando faccio un clone che come dicevamo in Eclipse il clone corrisponde a un'operazione di importa progetto da git allora questo progetto diventa automaticamente collegato con la mia copia personale del repository quindi queste sono le cose principali che dobbiamo sapere per poter lavorare nel all'interno del corso con git e github diciamo sono due trussi di lavoro il primo è creo un nuovo progetto e me lo salvo su github quindi ci lavoro lo aggancio github succede quando dobbiamo creare un progetto da zero partendo appunto non partendo da un progetto esistente se invece devo partire da un progetto esistente lo creo attraverso un fork più clone fork più import una volta che l'ho creato sia col flusso 1 sia col flusso 2 dall'in avanti funziona sempre nello stesso modo con meet and push o tra l'altro ovviamente se voi avete più di un computer voi potete creare il progetto su un computer fare push e poi sul secondo computer potete fare un clone e lavorarci lavorare sullo stesso progetto da due computer diversi ovviamente in questo caso il progetto 1 non è necessario fare fork perché è lo stesso progetto è già vostro e quindi non avete bisogno di farne una copia a cui abbiate accesso queste sono le cose di base su cui lavoreremo in laboratorio sarà questo soprattutto sarà il workflow principale del laboratorio poi ci sono delle cose più avanzate che se qualcuno di voi è curioso il fatto che Git è in grado di gestire anche più flussi diversi più branch diversi si lo richiama più rami di sviluppo diversi immaginate che siete in tre persone a lavorare su un progetto uno lavora magari sulla grafica della videata l'altro lavora sull'algoritmo l'altro lavora sui database lavorano con con ritmi diversi allora si prende un progetto se ne fanno tre ramificazioni tre branch frontend che sono database e algoritmo e chi lavora sul frontend lavora solamente all'interno di questo branch e i commit fatti su un branch non si mescolano con i commit fatti sull'altro branch quindi ciascuno può andare avanti sulla propria parte poi a un certo punto questi branch si faranno convergere con un'operazione di fusione di merge come si dice in cui vengono fusi i contributi che provengono da diversi branch ovviamente è uno strumento che è fondamentale nei gruppi di lavoro ma all'interno di questo corso non perdiamo tempo ad approfondirlo i comandi di base saranno appunto quello di branch crea un branch nuovo oppure check out si sposta in un branch esistente e poi ci sono operazioni il pool dovrà ovviamente mettere insieme vari branch una cosa che noi faremo voi non avete bisogno di farla ma noi la faremo per gli esercizi che pubblichiamo è cosiddetto definire un tag cioè un'etichetta in diversi punti cioè negli esercizi semplicemente una notazione in un uso di speciale una notazione di una certa versione noi dei progetti tendiamo a rilasciare due versioni una che chiamiamo progetto base che è il testo dell'esercizio con lo scheletro di progetto e poi la soluzione allora la soluzione la mettiamo in un branch diverso etichettata come soluzione mentre l'altra è etichettata come progetto base quindi quando voi troverete gitarra ma questo poi lo vediamo insieme quando facciamo gli esercizi quindi questa è solamente la superficie abbiamo appena scarpito la superficie di git ci sono migliaia di pagine essenzialmente di documentazione che ci possono servire se qualcuno di voi vuole approfondire ma soprattutto quello che mi interessa sono i vari workflow che si possono costruire mettendo insieme combinando insieme i comandi di git e le funzionalità di github in particolare c'è ad esempio questo sito tra il github che ci permette di con un tutorial passo passo di apprendere un pochino un pochino più in dettaglio le cose che oggi vi ho raccontato rapidamente e anche qualche informazione sulla creazione e gestione dei branch ok questo diciamo così la presentazione questo argomento su github è concluso ci servirà come dicevo operativamente sia per svolgere i laboratori sia per potervi condividere gli esercizi che faremo insieme in aula durante in aula scusate non andremo in aula ma durante le video lezioni quindi condividere gli esercizi su github e voi con il workflow di fork più clone li potete usare e verificare e confrontare con i vostri voi stessi quando farete esercizi siete fortemente invogliati a salvarveli sulla vostra github in modo da poter avere tutto ben ordinato tra l'altro anche all'esame potrete accedere alla vostra pagina github e quindi vedere i vari esercizi i vari programmi che avete fatto via via durante l'anno perché sono tutti nel vostro repository o perché li avete creati da zero o perché li avete forcati e poi ci avete lavorato sopra rispetto ai protetti di base per oggi è tutto e grazie per l'attenzione per l'attenzione